Salve a tutti, come sempre dico la mia dopo questo fantastico Gran Premio di Monza 2024 dove Charles Leclerc praticamente per un giorno potrebbe essere anche il re d'Italia, una vittoria che ha messo d'accordo tutti, figlia anche di una sola sosta, riuscito in maniera egregia a gestire le ruote praticamente per più di metà del Gran Premio, ha fatto la gara con le gomme hard, è riuscito ad avere la meglia su piastri di due secondi, due e mezzo, è riuscito a staccare piastri, piastri che era arrembante, ci sono stati gli ultimi dieci giri che sono stati veramente da antologia della Formula 1, fantastici, un grande applauso al quasi fuoriuscito Sainz che va via, Sainz con quel secondo e mezzo circa che ha fatto perdere a Piastri, secondo me ha cambiato un po' le sorti della gara perché con questo secondo e mezzo in meno di distacco Piastri si è arrivato proprio negli scarichi di Leclerc e non ci voleva niente che Leclerc corresse un rischio, anche facesse un errore perché con le gomme combinate in quella maniera non ci voleva proprio nulla a combinare una sciocchezza e lo stesso Piastri poteva essere ancora più galvanizzato e rischiare il tutto per tutto, anche perché la McLaren, parliamoci chiaro, attualmente alla prima forza è una macchina nettamente superiore a tutti. Dispiace anche per Norris perché ha buttato al vento un'altra pole position facendosi infilare non alla prima curva ma all'arroggia, alla variante dell'arroggia con un sopparso eccezionale di Piastri che lui non si aspettava e a quel punto lo ha passato, l'ha infilato anche Leclerc quindi la gara si è un po' compromessa subito per quanto riguarda Piastri. Comunque grande Ferrari, c'ho la magliettina, ieri l'Italia si è tinta di rosso. Leclerc pensandoci bene ha vinto praticamente due delle gare più importanti in campionato tra cui la citata in qualche video fa Monaco a casa sua e Monza che è sempre a casa sua, praticamente che è la casa della Ferrari, ma anche se Monaco si vince praticamente in qualifica, è un circuito che a me mi sta un po' sul groppone perché per me non è più un circuito da mettere nel mondiale nel 2024, però purtroppo è... vabbè questa è un'altra storia, non divaghiamo. Comunque quindi vince due gare importantissime del mondiale, la Ferrari in ripresa, speriamo. Hanno viaggiato con le ali scariche, ora si va in altri circuiti, si va a Baco, dove a Baco Leclerc è sempre andato forte, però insomma non è che gli altri stanno dormendo. Abbiamo avuto questa grande battuta d'arresto della Red Bull che ha fatto un sesto misero posto con Verstappen e un ottavo posto con Sergio Perez. Effettivamente vedere Verstappen sesto fa un po' senso, però si è ristabilito un po' il mondiale, il mondiale è un po' più aperto e se Norris non lo vincerà sarà molto per colpa sua, per tutti gli errori che ha fatto, per le qualifiche che non ha saputo sfruttare, per i sette punti regalati in Ungheria. Sì, ha ceduto la posizione a Piastri, però sono sette punti che alla fine nell'economia di un mondiale così tirato potrebbero anche fare la differenza. Per quanto riguarda, e cioè ieri poi, ieri ne ha persi altrettanti, ieri la gara l'avrebbe potuta vincere tranquillamente Norris, io anzi pensavo che la gara sarebbe stata nelle sue mani assolutamente, e invece, infatti quando l'ho visto sfilare alla prima variante ho detto dai, è fatta, ci addormentiamo ed è fatta. Lewis Hamilton ottimo quinto, con una Mercedes un po' traballante, però insomma la Ferrari ha fatto quello che doveva fare mettersi dietro le Mercedes. Russell VII, Russell VII con la macchina insomma riparata in S-Emis dopo il botto di Antonelli, speriamo, voglio aprire una piccola parentesi su Antonelli, speriamo che questo botto gli sia da monito, insomma lo ha detto lui nelle interviste che è partito in quarta e dove è uscita la SEV di car è uscito pure lui facendo un bel danno alla macchina, soprattutto prendendosi oltre 50 G di forza laterale che non è mai una cosa buona. Poi fortunatamente è andato bene anche in Formula 2, insomma ha fatto mi pare sesto posto, comunque lo aspettiamo al varco del prossimo campionato sperando veramente che faccia bene, intanto è una cosa eccezionale che ritorna un italiano in Formula 1, evviva, eh dai ci voleva, è un italiano con una grande macchina, io onestamente pensavo che Toto Wolf avrebbe proposto di entrare in Williams e che al posto di Hamilton partente verso la Ferrari, non vediamo l'ora, si sarebbe seduto Sainz. Poi non ho capito bene perché questa trattativa non è andata in porto, secondo me è che Sainz un po' se l'è tirata di qua e di là, faceva un po' il prezioso del campionato, un po' aspirava alla Red Bull, un po' c'erano sempre i contatti con l'Audi, un po' voleva la McLaren e alla fine è finita una squadra di ultima fascia che è la Williams, anche se la Williams è un passato storico, spero di sbagliarmi però sarà dal mio punto di vista un grande passo indietro per Sainz e mi dispiace vederlo relegato nelle ultime posizioni, sicuramente farà meglio dei piloti che ci sono però secondo me quella è una squadra da, se tutto va bene, da dodicesimo, tredicesimo posto, cioè andando bene. Altra parentesi, un applauso a Colapinto che ha sostituito il Logan Sergent che oramai ha fatto le valigie penso definitivamente dalla Formula 1, Colapinto è arrivato al dodicesimo quindi un ottimo debutto direi, un buon debutto sano, ha portato la macchina al traguardo sana, al posto di Antonelli che ha fatto crash praticamente dopo un giro e mezzo o due ma non cambia il succo e il discorso e anche la mortificazione di consegnare alla Mercedes una macchina danneggiata sia alla Mercedes che a George Russell, infatti George Russell hai sempre una macchina danneggiata, cioè è riparata, è una cosa che dà fastidio comunque quindi io pensavo che Antonelli avrebbe fatto uno o due anni come lo stesso Russell in Williams che è praticamente una scuderia satellite perché Toto Wolf ha una parte della proprietà della Williams, è un po' come Leclerc che ha fatto un anno in Sauber, Alfa Romeo è lo stesso Verstappen che ha cominciato con la Toro Rosso poi subito passato alla Red Bull come diciamo la stragrande maggioranza dei campioni, anche lo stesso Vettel in Toro Rosso un altro campione che ha fatto un percorso simile a quello di Antonelli è stato Lewis Hamilton che è partito dritto con la Mercedes e già nel 2007 ha rischiato di vincere il Mondiale se non ci fossero state quelle diatribe interne con Alonso lui probabilmente si sarebbe portato già nel 2007 il Mondiale a casa, invece tra i due litiganti Kimi Raikkonen ha goduto e attualmente è ancora l'ultimo pilota ad aver vinto un Mondiale con la Ferrari quindi il Mondiale piloti con la Ferrari risale al 2007 mentre quello costruttore risale al 2008 quindi andando avanti scrollando la classifica abbiamo Albon con la Williams al nono posto ottimo Albon Magnussen che si prende un punto ma si piglia pure dei punti di penalità sulla patente sulla licenza da Formula 1 e qua apro un'altra parentesi cioè praticamente sì lui gli ha dato una ruotata a Gasly ma ogni cosa viene subito sanzionata quindi praticamente nel passato queste cose non ci sarebbero mai state praticamente gli state dicendo viaggiate in autostrada tutti Bellini quando c'è lo spazio per sorpassare passate il prossimo Gran Premio il signor Kevin Magnussen il danese volante si starà in Danimarca a farsi i Lego e al suo posto ci sarà Oliver Berman ecco a proposito di Antonelli Antonelli Mercedes Oliver Berman Ferrari Berman viene passato alla AS scuderia tra parentesi satellite della Ferrari e farà come minimo due anni penso a meno che non se ne va via Leclerc mi pare molto difficile o Hamilton è appena arrivato se ne va non penso proprio Hamilton saranno due anni sicuro almeno quindi Berman per due anni secondo me a meno che non se ne va da qualche altra parte ci sia qualche ribaltone per due anni sta in AS sicuro poi abbiamo Alonso undicesimo chi l'ha visto in questa gara? voi l'avete visto Alonso questa Aston Martin che non inquadra in nessuna maniera chissà arriverà a Newy ma loro stanno investendo un sacco di soldi però la Aston Martin non va più avanti di fine zona punti o inizio zona non punti ci sono le Alpine quattordicesimo e quindicesimo e poi le Stake Formula One Sauber con Bottas sedicesimo Hulkenberg diciassettesimo niente poi chiude ultimo classificato Lenz Stroll diciannovesimo perché invece su nota si è ritirato la macchina è stata ritirata all'inizio della gara comunque ritornando a Leclerc che cosa ha fatto Charles? Charles ci ha regalato una gara bellissima una gara di altri tempi dove abbiamo sofferto con lui dove tutta l'Italia era con lui questa vittoria ce la ricorderemo forse anche più bella di quella del 2019 arrivata in maniera diversa là si è tenuto dietro Luis Hamilton arrembante qua ha dovuto fare una gara veramente di testa spero che questa gara sia di aiuto per lui per fare meglio nel proseguo del campionato nella parte diciamo finale anche se ancora ci sono un bel po' di gare spero che Norris riesca a recuperare più punti possibili così ci viviamo questo fine campionato bello tosto e io penso che ci sarà un grandissimo 2025 proprio grandissimo ci divertiremo da matti nel 2025 prossima gara ce ne andiamo a Bacu tra due settimane cioè loro se ne vanno a Bacu tra due settimane è il 15 settembre sul circuito cittadino di Bacu dove c'è quel rettilineo micidiale dove arrivano a velocità macroscopiche vediamo possibilmente la Ferrari andrà bene anche là perché se viaggiano con le ali scariche come hanno viaggiato qua vediamo non è detto che non ci sia un Leclerc bis o quantomeno podio io lo do per scontato vediamo è una Formula 1 molto 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 interessante vi saluto questo è Dico la mia se volete dire la vostra scrivete qua sotto e ci facciamo due risate arrivederci testo vediamo viaggiano le forn納牟 le fornge aggiungale posizionare